Dio? Ci sei? C'è nessuno? Ho bisogno del tuo aiuto! Batti mani! Batti mani! Batti mani! Batti mani! Batti mani! E ti pareva? Ma buongiorno, Russo Annipotente. Non è così facile come sembra, vero figliolo? Questa storia di essere Dio. Sono tutti scatenati. È colpa mia, io non so cosa fare. Arrivi giusto in tempo. Le sette e sette. Le sette, le sette e sette. Ah, molto bene. Ecco fatto. Mi piace. Mi pioggia. È davvero meraviglioso. Per quanto sporca possa diventare una cosa, puoi sempre dargli una bella ripurità. Erano così tanti che gli ho solo dato quello che volevano. Già. Ma da quando in qua le persone sanno quello che vogliono? E allora che faccio? Dividere la minestra non è un miracolo, Bruce. È un trucchetto. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il figlio a scuola di calcio. Quello sì che è un vero miracolo. Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì alle istruzioni. Questo è un miracolo. Le persone vogliono che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sì, il tuo miracolo. Aspetta, che fai? Vai via. Sì, penso che tu sappia cavartela adesso. E se ho bisogno di te, se devo farti delle domande? È un tuo problema, Bruce. È il problema di tutti quanti. Continua a guardare in alto.